Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Satasi e benvenuti a questo nuovo episodio della Pixelmon Allora, abbiamo un paio di Pokemon qua vicino in effetti E pensandoci a questo punto facciamo Xpare un po' Luxary Tanto c'è Goldin, c'è un po' di roba qua vicino Possiamo farci Xp veloce veloce anche Quindi per esempio uccidiamo un buon attimo questi, eh sia Hacking anche Thunder, dovrebbe tipo uccidarlo forse Uccidarlo o no, probabilmente però un po' di Thunder Ehi, wow Ok, sì, un bel poli l'ha fatto di male Uh, bravo Ok, e vediamo un po', vediamo un po' altri Sì, Hacking anche quelli non posso uccidere perché sono tipo ettro come il mio E l'Iron, oh l'Iron livello 46 Dovrebbe in teoria funzionare il Thunder sui lui Sì, funziona infatti Ok Mamma, oh eh, un po' di livelli se li ha fatti pure lui 33, vabbè tanto, ormai non livella più tranquillamente Però voglio, cioè non livella più, non evolve più Però voglio trovare quei Glauola ragazzi Uh, Miltank a go go Ok, quelli li voglio anche Perché un po' di pelle mi serve Infatti facciamo evolvere Primplop Vabbè Primplop adesso non mi serve Però è meglio averne un po' Ok, Primplop fai pack Eh, non arriva una mazza pack Uh, bubble Ok, bubble fa un po' più di male Aia, fa un po' di male anche Uh Ok, eccolo qua Perfetto, facciamo bubble ancora Primplop prendo so che mazza Non so perché Da più Bumiltank livello 9 Ok Vabbè fai da combo bubble Bubble Ok, un po' di pelle Oh, 9 Perfetto Tra l'ora vi serviva Fa tempo a ricerca di Graveler Continua Nell'oscritto episodio abbiamo visto Che Graveler era scomparso Non si sa bene come Nelle scorse puntate Previously On Olyssa Craft No, On Pixelmon Graveler As a skates We, we can't keep him With us So What will do Our hero Nothing Sì, ok, non farò niente Sì, è bello questa voce figa Spero che si è uscita bene come volevo Però vabbè, poi controllerò In caso No, davvero ragazzi Non c'è Non c'è un Graveler Ho istinto il Graveler No Ho istinto davvero il Graveler What the fuck Vabbè 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 Possiamo spiare un po' La cosa di Xander Fa tempo La palestra Direi di Sivan Mentre faccio Forse tipo Arrivano i Graveler In caso Andiamo 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 Com'è Come ha fatta la palestra Per ora Oh, qui c'è un Duke Trioce Troppa gente qua Tipo c'è Va Troppa gente davvero Qui Perché ha fatto Ah, vuole Ok, vuole trovare In questo modo Ah, per ora ha fatto Uh, bella Ok, ha fatto tanto Una Pokeball Bella dall'alto Ok Figa Ah, solo questa Ah, e poi qui Un po' le pareti Ho fatto Vabbè Insomma Stavo usando un po' La Ciselle Per fare un paio di cose Vabbè Infatti è buona cosa Un buona cosa Ok, quanti soldi abbiamo avuto Già 1.500 No 3.000 abbiamo in totale Mhm Ci saranno altri 3.000 In effetti 2.400 Più o meno Quindi un bel po' di roba Dovevo trovarla E penso che Le live faremo proprio quello Come ho già detto Quindi un bel po' di roba Carina e coccolosa Mhm Poi posso chiedere anche a Xander In effetti Si ha dei soldi in più Che non li serve Ma gli si è fatta la palestra Non so cosa servono i soldi dopo Vabbè Servono alcune cose Sicuramente Tipo Come ho già detto Le pozioni sono un'ottima scelta Per Ehm Cioè Sono un'ottima scelta Quindi potrebbe usare anche quelle Ehm Non lo so ragazzi Vi giuro Non ci sono grappler In GeoDude non ci sono I grappler non ci sono Ne ho cici troppi E li ho istinti Faccio un altro giro ragazzi Se li trovo Boh Buon per noi Caso contrario bella roba Non vorrei che si siano bugati Non li vedo io Provano i logare ragazzi Può darsi Capita Capita anche questo Ok Ho Tutto d'immagine Vabbè Solo nel cambiamento d'immagine E Vediamo un po' Gravler No Sono ancora istinti Ok Si sono davvero istinti per sempre Mi dispiace E' stato bello Gravler Io non volevo Né a te Né a GeoDude Però Uh Ah questo è quello rosso ragazzi Questo fa un male assurdo Andiamo a torterra per primo Oh 70 Ok Mega Drain Aia Bom Ok Facciamo un attimo Razor Leaf Mmm L'ho ucciso New Psychic Aia Uh questo è ucciso Facciamo pound Aia Ucciso Oh Oh ragazzi L'orb Ok Rock Slide E Moonstone Ok Un'altra Moonstone Ok ragazzi Vado un attimo a rispondere Arrivo subitissimo Ok Risposto al posto mio Buona questa cosa Oh ragazzi Quanta roba bella Abbiamo Queste due Non so che servono L'orb So che serve invece Ragazzi Questa devo tenerla In inventario Perché devo tipo Uccidere 200 mob E posso poi spawnare Un leggendario So che i giocali Hanno trovato Un Coso per l'orb Quindi sarebbero Sono tornati GeoDude Sono tornati GeoDude GGWP Ok Però non volevo uccidere Con Jarisar Volevo uccidere Con il mio piccolo amico Graveler invece no Ma lì c'è Ah lì c'è Sigliff Sigliff Qualcosa del genere Ok GeoDude Ok Facciamo Da capo Vabbè Muzzlep Vabbè Facciamo tipo Muzzlep di nuovo Che intanto Diminuisce la precisione Un po' di mazzate Dipende comunque Vabbè Dettagli Ok Dai altri 4 livelli Oh eccolo qua Ciao amico Mi sa che Sporano più di notte Ragazzi Contrario Colpa mia Ok Muzzlep Aia Ok Perfetto Siamo a 33 Altro Altro Graveler Si mi sa ragazzi di notte Scusate Colpa mia Ho sbagliato davvero Tipo tutto Graveler Ok Bam Perché tipo Ma che bello Il Dattac sui Gravel Ora che lo vedo È figo Ho preso Manitudo 2 Tipo Una merda 5 Qua è un 10 Così lo ho shotti Tipo Oh bravo Ok 33 Altri 3 livelli Velocemente Velocemente Wow Ciao amico Aia Graveler Manitudo Pam Aia Eh Manitudo ancora Ah Che brutto danno Che mi fa 34 Eh Ancora poche capis Penso Di non farcela O fare altri due livelli Sicuramente Brava Qualcosa posso rimediare Ma almeno un altro livello Un altro due livelli Va Un livello poi vado a curarmi Infatti vado verso casa Va Sì sì Tanto qua vicino C'è casa Oh ci sono dei Graveler lì Che combattono tra loro Buono Ok Ah lì c'è Tanto uno Un Geodude Che combatta contro Graveler Magnitudo Ah Bello quel danno Sei Merda Troppo sei Ok Graveler Ho 35 Bello Ok vai Ok Non morire Non morire Attacca Ok Wow Wow 7 di HP Ancora Devo ancora Metterlo Curiamolo Nel frattempo Va Veloce Veloce Non è che troviamo altri Geodude Più che Più che Più che Più che Più che Più che Graveler E facciamo Le mega stragi Tipo Fichissime OP Ok Comunque Questa roba è figa Non so quanto Faccio vedere Quanta roba c'ho dentro Però vabbè Nel frattempo E ci gentлишimo Chiuderemo a giocare MonSTR E Quindi non so Vediamo un po' Cosa facciamo a evolvere Plimplap Lasciamo Charizard Prendiamo Monferno Io direi che quella La posso lasciata migliore Però devo trovare un Chimchar E poi farlo diventare Monferno Va Vediamo un po' Vabbè Non fa tempo comunque Andiamo a far evolvere Il nostro Gollet Finalmente Vediamo un po' Che cavolo diventa E ho detto che è bellissimo Voglio davvero vedere Serie se volare E tipo è bellissimo Da vedere Non fa tempo Non imparo una mossa Da un botto di tempo Ah Maslap Ok Uh Oh oh Nightshade Ehm Ok Mmm Dove ho perso Eh no Io direi No lascia stare Non mi interessa Questa mossa Ok Un livello ancora Un po' di Graveler Veloce veloce Andiamo un attimo Nel deserto Un po' più In fondo Nel deserto E eccolo L'altro Graveler Ma siamo a due o tre Di livello 35 Poi sono a posto Ma anche questo Livello 28 Van bene Ok Eh Magnitudo Fetto Un altro magnitudo ancora Ho ucciso Perfetto Un altro Due Pi' o meno Penso di sì Ehm Facciamo questo Modemmo di qua Ok Dovebbe essere tipo Da questa parte Dove cavolo sono? Ehm Piccoli Graveler Dove siete? Giusto due Me ne saprò Giusto due Eh no Quel tizio Oh quel tizio Eh questo dovrebbe No quel tizio Piscatore Lascia stare Ok Graveler Ok Manitudo Manitudo Vai 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 Gollet Manitudo ormai È la mossa che Chiuso usando su Gollet Aia Ok Vai ancora Vai ce la fai Non livello Come non livello Oh a che livello Livelli Non è una 36 ragazzi Mi avete trollato? Era il 43 forse Qualcuno mi ha dato Qualcuno mi ha dato 43 Non lo so Va bene ragazzi Anche per questo È tutto In realtà buono I nostri piccoli Pokémon stanno livellando Molto molto bene L'Axe di 33 Gollet 36 Eh Fatemi sapere la scelta Di tenere il print up E lasciare i charizard A noi per Le prossime settimane Allora di oggi Siamo a testa di tutto Ci vediamo nel prossimo Io Ciao ciao Ciao